Con beat di Matteo Artioli e con rap Filippo Marco Bologni tra 1, 2, 3 secondi un freestyle su Francesca Rioli Francesca Rioli si fa i selfie e ti piace non l'ammetti e comunque sia fa solo percorsi netti con il suo loro piano selfie e ora che non ho pifiato Francesca rispondi a questo freestyle appena nato E io scemo che volevo anche crederti ho richiamato in giro la gente e mi hanno confermato al 1000x1000 quindi ti ripeto, a perderla ci si guadagna la tua nicizia non ti chiamo e faccio un video così vedi anche la mia faccia è meglio Ciao